Filippo Bisciglia si scioglie in lacrime per la fidanzata Pamela Camassa Dopo aver vissuto appieno le emozioni delle coppie dell'ottava edizione di Tentation Island e aver mostrato spesso video scottanti davanti ai falò, stavolta è toccato a Filippo Bisciglia emozionarsi e piangere davanti a una videoclip che parlava della sua storia con Pamela Camassa Il popolare conduttore, ospite da Pierluigi Diaco nel programma estivo di Rai Uno io e te, ha ripercorso insieme al giornalista le tappe più significative della sua carriera Non da ultimo il successo dell'edizione 2020 del reality delle Tentazioni Un'edizione che a sorpresa ha registrato un boom di ascolti pazzesco Tanto da lasciare di stucco anche i vertici Mediaset Il 43enne al timone di Tentation Island dal 2014, parlando proprio di questo suo ultimo traguardo Ha voluto ringraziare Maria De Filippi, la sua madre artistica Perché tutto ciò che è riuscita a ottenere sul piccolo schermo lo deve soprattutto a lei Filippo Bisciglia ha inoltre sottolineato che tra lui e la De Filippi non solo c'è una grande stima professionale Ma anche un profondo legame affettivo che dura ormai da molti anni Il conduttore, durante la sua ospitata a Io e te da Diaco, ha dichiarato di volerne un bene pazzesco Un momento emozionante e che di sicuro avrà emozionato tutti i fan e non solo di Tentation Island Ma non quanto quello che è seguito subito dopo e che ha fatto versare lacrime di commozione a Filippo Bisciglia Le lacrime di Filippo Bisciglia davanti al video della sua storia d'amore con Pamela Camassa Pierluigi Diaco durante l'intervista non ha parlato con Filippo Bisciglia della sua situazione sentimentale Ma poco prima di chiudere ha fatto un'eccezione inaspettata e che ha emozionato anche il pubblico a casa Il conduttore ha fatto partire un videotributo a Filippo Bisciglia e Pamela Camassa Che parlava della loro storia d'amore che dura ormai da più di dieci anni E dei momenti più importanti che hanno vissuto insieme L'omaggio è stato accompagnato dalle note di E lungo il Tevere Uno dei brani più belli di Claudio Baglioni Ascoltandolo e vedendo scorrere le immagini della videoclip Filippo Bisciglia si è emozionato molto Tanto che a un certo punto non è riuscito a trattenere le lacrime E si è abbandonato al pianto Ricordiamo che solo pochi mesi fa La storia d'amore tra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa Era stata messa a dura prova da una crisi molto profonda Crisi che è stata confermata di recente anche dai diretti interessati Per fortuna adesso Filippo Bisciglia e Pamela Camassa Si sono lasciati il periodo nero alle spalle E la loro relazione sta procedendo con il vento in poppa Che cosa ne pensate di Filippo Bisciglia? Vi piace come conduttore o preferite Alessia Marcuzzi? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto metti mi piace Registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti Grazie! 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 Grazie a tutti.